Sfratto dopo tre mesi immediatamente eseguito dalle forze dell'ordine e iscrizione a un registro morosi. Grazie mille per questo tuo commento, ne ho ricevuti molti di simili, quindi mi pare di capire che per la maggior parte dei proprietari il problema più grande sia quello che, se l'inquilino smette di pagare, è difficile e costoso rientrare in possesso della propria casa. E questo a volte si traduce in richieste al limite dell'assurdo da parte dei proprietari, come ad esempio, e ne ho esperienza personale, il fatto che gli inquilini abbiano non uno ma due lavori a tempo indeterminato o uno a tempo indeterminato e un garante con un lavoro a tempo indeterminato, cosa che oggigiorno è al limite della fantascienza. Detto questo devo anche dire che però in linea di principio sono d'accordo con questo commento. Infatti se vogliamo che i proprietari di case tornino a metterle sul mercato delle locazioni a lungo termine, con conseguente ribasso dei canoni a tutto vantaggio degli inquilini onesti, lo Stato deve semplicemente fare il suo dovere e garantirgli che se l'inquilino smette di pagare loro rientreranno in possesso del loro bene in tempi ragionevoli. Ovviamente non sto parlando di buttare in mezzo alla strada intere famiglie dall'oggi al domani perché dovrà essere lo Stato, cioè comunque tutti noi, a fornire una rete di sicurezza a tutte le persone che ad esempio non possono più pagare l'affitto perché hanno perso il lavoro, si sono ammalate eccetera. In altre parole io credo che non si possa e non si debba scaricare sui singoli, i proprietari di case in questo caso, la responsabilità di un problema che è sociale, ma ho il sospetto che i tempi biblici degli sfratti siano proprio dovuti al fatto che lo Stato ha gettato la spugna e si è dichiarato non più in grado di aiutare le persone in difficoltà scaricando appunto sui privati questa responsabilità. Risultato, sempre meno case disponibili per chi vuole affittare a prezzi sempre più elevati e chi ci perde sono sempre le persone bisognose. Ma questo è solo quello che penso io, se vi va fatemi sapere cosa ne pensate voi, come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi alla discussione, alla prossima!